Nella mia vita sono stato panettiere, scrittore, attore, papà e dj, ma non avrei mai pensato di essere un istruttore di guida. E secondo me, nemmeno loro lo avrebbero mai immaginato. Eccolo qua, arriva il primo. Ciao. Ma che vuolo! Mi ha fatto i 18? Eh sì, ne abbiamo fatti i 75. Aspetta, è meglio se mi attacco, sai? Mi piacerebbe arrivare a 75 anni come lei. Beh, se guida così, non so se ce la faccio. Comunque sì, qua a destra. Sì, sì, sì. Sì, sì. Guarda che è mia. Ho 18 anni, sto facendo la patente. Mi porti da schifo. Io ho una lavanderia. Ecco, non stirare il pedone. Anche se sei uno del mestiere. Esatto, esatto. Da grande vuoi fare il... Si dice cantante rap. Freestyle. Faccio freestyle. Lo sai come va, mica male. Mi raccomando, non toccare mai nessuno sulla striscia pedonale. Non lo faccio bene. No, continua sui libri che vai bene io. Qua sono i birilli. Ne ha presi due. Mani sul volante. 10 e 10. 18 e 10. 18 e 30. Meno un quarto. Che ore sono adesso? Se vuoi provare l'emozione della seconda, devi andare un pochino più veloce. Prima... Ah, prima devo accelerare. Se vuoi parliamo tutto così. L'agentura! Il fenomeno! Vado? Mi sto emozionando. Hai messo una terza! Non dobbiamo! Se lo dico alla mia amica Lella che... Che hai messo la terza! No! Che ti ho conosciuto! Lella! Oggi ho messo la terza! Lascia il volante e accelera piano. Di satellite. Ancora, ancora, ancora. Stop! È super! Non ha bisogno di alterazioni. Sicuro? Ha bisogno di andare un po' più piano. Sì? No! Ciao, ciao! Non guidi benissimo. No! Ciao! Cioè, tu non hai mai guidato una macchina in vita tua? Mai! Mai! Slacciati la cintura, scendi e aspettiamo che venga l'istruttore quello vero. Ok.